...mesigliamo divertimento stasera, quindi... Eh ma prima fai divertire... Ma che sono? Non c'è perché lo sono anche... Buonasera, vi lancerà più in festa! Oh... Allora, signori... ...perchè stare nei santuari... Ma perché non l'abbiamo spiegato? Molti magari non ci conoscono, voglio dire... ... che stasera qui avverrà non un'esibizione, sicuramente... Esatto, bravo! Non è un'esibizione...